In realtà mi è stato dato un compito abbastanza complesso, questo di spiegare come un'azienda come l'ILVA, che è l'acciaieria attualmente più grande d'Europa, possa influenzare la società della città che la ospita e in tutto questo, in ciò che ruolo ha il movimento operaio. Dopo la partenza dell'iter giudiziario tutti noi, tutti noi compresi in realtà, immaginavamo una città che finalmente si smuovesse, che ribollisse di sdegno, di voglia di riscatto. In realtà il grande assente è stato proprio il movimento operaio. Quello che doveva essere il soggetto principale di quella situazione alla fine è diventato una mera comparsa, in realtà tirato da una parte all'altra, dall'azienda per i suoi scopi, da alcuni movimenti ambientalisti, da alcuni comitati. Ad oggi l'unica speranza, fra virgolette, ovviamente non per noi, è il processo e l'iter giudiziario che è in corso. Molti compagni, molte compagne di Taranto, mi hanno sempre chiesto quale fosse la situazione, no? Come mai da un inizio così travolgente a Taranto, poi in realtà se ne parli poco, se non per il concerto del primo maggio, di altre cose così. In realtà quello che si vede dal di fuori, quello che si vede da Facebook, non è tutta la realtà. In città praticamente non c'è quasi nulla. E anche il rapporto con gli ambientalisti, per noi che siamo una forza anticapitalista, è molto difficile. Io per capire ciò, ho cercato di capire ciò e per farlo devo fare un po' di storia, sia della città, sia del movimento operaio dall'inizio della fondazione dell'ILVA. Sarà molto breve, però per esserlo di più, io vi chiedo scusa, ma alcuni pezzi li leggerò, altrimenti, perché la questione ILVA è molto difficile, molto complessa. Probabilmente servirebbe una cosa ad hoc, insomma, per vederne tutti gli aspetti. Allora mi sono segnata le cose principali. Per capire come mai il movimento operaio in questo momento a Taranto è praticamente assente, e come mai l'ILVA è ancora considerata l'azienda per antonomasia della città. Bisogna capire che la città di Taranto è sempre stata fondamentalmente una città povera, di pesca, marittima, al di là di quello che dicono molti ambientalisti, per cui prima dell'ILVA si viveva bene, in realtà era una città di immigrati. La mia famiglia è un esempio, insomma, siamo sparsi per tutto il mondo, ma non solo quello. Era una città dove si viveva di marittima, di pesca, eventualmente di navi, durante la seconda guerra mondiale, con i cantieri tosi che ristrutturavano le navi della marina, con l'arsenale militare, ma non c'era molto di più. Col 1950, quindi l'inizio del progetto ILVA, la realtà di Taranto è iniziata a cambiare. Vi è. Quello è l'anno dell'inizio del benessere in Italia, delle speranze per il futuro, e anche Taranto vive questo. Da una città piccolissima si inizia ad ingrandire, perché arrivano molte persone da fuori, molte maestranze specialistiche che a Taranto non c'erano, arrivano da fuori. Una città che era prevalentemente povera, poco agricola, molto marittima, inizia ad avere le prime industrie, le prime fabbriche. Il numero di occupati tarantini, sin dall'inizio, era il 50% della città, il 50% che veniva preso da fuori, perché comunque servivano maestranze specializzate o comunque dalla provincia. Questo è uno dei motivi per il quale la città è sempre stata unita alla sua fabbrica, perché in qualche maniera gli ha portato il benessere. Poi noi sappiamo benissimo che in quel periodo non vi era una coscienza rispetto all'inquinamento, non si sapevano i rischi dell'amianto, del benzopirene, insomma, erano parole che neanche si sapevano. Immaginate in una realtà povera del sud, insomma, dove anche culturalmente non si sapeva cosa fosse l'ambiente. E quindi questo fa, in realtà, resta così senza grosse mobilitazioni, fino alla prima grande vertenza che vive la città, nel 73-74 più o meno, che era la famosa vertenza Taranto. Dopo la fine del raddoppio dell'ILVA, che all'epoca si chiamava i Talcider, c'è il primo grosso scontro fra i sindacati e la classe dirigente, perché la classe dirigente ha terminato la costruzione del megacomplesso, così come è attualmente, tranne piccole sistemazioni, voleva ovviamente lasciare a casa gli operai dell'indotto. Dato che poi, come vi ho detto prima, molti nel frattempo erano giovani lavoratori che erano entrati dalla città o comunque dalla provincia, questa cosa unì in molto le mobilitazioni interne alla fabbrica con la città. Ci furono le prime grande mobilitazioni che realmente unificarono tutte. Io ovviamente non c'ero, ma i compagni, diciamo che all'epoca c'erano e magari lavoravano in fabbrica, se li ricordano. C'è questo conflitto con la rivendicazione che era di occupare tutti e tutte indistintamente, coloro che avevano lavorato per ampliare la fabbrica, dentro la fabbrica fuori, ma rioccuparli tutto. Questo portò, oltre che una presa di coscienza di classe del movimento operaio, una presa di coscienza generale della città. Tant'è che i compagni, ancora oggi come ciccio, si ricordano i grandi scioperi con blocchi del ponte, subito dopo la strage di Brescia, cosa che a Taranto, insomma, mobilitazioni per questioni che non erano strettamente della città, non ce n'erano state. Questo per far capire come una presa di coscienza della fabbrica aveva portato a una presa di coscienza generale. Questo più o meno, insomma, fino alla fine della vertenza Ilva, in cui ci sono stati anni di scioperi, manifestazioni, che hanno portato a una vittoria. Infatti quasi tutti i lavoratori furono riassunti, furono rimpiegati chi nell'indotto, chi dentro il siderurgico. Con la chiusura di questa vertenza, era a fine 70, quindi 77-78, insomma, inizia un periodo che probabilmente è di riflusso fisiologico, dopo comunque anni di mobilitazioni serrate, di anche, diciamo, iniziava a calare anche probabilmente a livello nazionale le mobilitazioni, le lotte, tant'è che si arriva alla fine del 1980, lo cito perché è stato importante per il disastro della città, con Giancarlo Cito, non so chi se lo ricorda, che balza sulla scena politica di Taranto portando il peggior periodo di fascismo e razzismo che la nostra città abbia mai vissuto e di cui ancora in realtà ne paghiamo le conseguenze anche culturali, che culminò nel 93 con la sua elezione a sindaco. e da là non ci siamo mai più ripresi perché di là c'è stata una caduta culturale e politica che noi non so quando riusciremo a togliercela da dosso. E nel 95 arriva l'acquisizione, in realtà il regalo, perché ancora non è stata pagata, della loro italsidere ilva, dallo Stato italiano al padroniva. In questo passaggio, quindi dal pubblico al privato, che fine ha fatto il movimento operaio? Anche in questo caso io ho fatto numerose chiacchierate con compagni e nonna. Io, scusate, parlo al maschile. In realtà operaie, donne, tranne che un paio durante gli anni 70 non ce ne sono state. Quindi in realtà è un mondo maschile. Io ho fatto riunioni di due o trecento persone dove di donne, insomma, ne eravamo un paio, ecco. Tutte e due di sinistra anticapitalista, per intenderci. Quindi quando parlo al maschile non è, insomma, io sono una femminista, convinta, però perché in realtà è un mondo maschile, ecco. Quindi chiacchierando con i compagni che la fabbrica l'hanno vissuta realmente dal di dentro, non come i delegati attuali che vanno in giro in giacca e cravatta, il tablet, insomma, con i delegati che lavoravano nella cocheria realmente, mi sono fatta un'idea del motivo per il quale attualmente è così difficile muovere gli operai, la classe lavoratrice dentro l'ILVA. Con l'acquisizione dell'ILVA pubblica, dell'ILVA dallo Stato a Iriva, ci sono stati dei cavilli molto particolari. Una delle richieste esplicite era che la nuova dirigenza non poteva fare cambi di personale per i primi tre anni, quindi dal 95 al 97. Appena scaduti questi tre anni, quindi la dirigenza si era impiantata, voi immaginate un siderurcico grande come una città, per cui non è una fabbrica che, insomma, cambia un mazzo di chiavi, ecco, ci sono tutte procedure particolari, iniziano, vengono presi nuovi assunti e vengono presi non con i vecchi contratti dei vecchi lavoratori, ma con contratti di formazione e lavoro. E iniziano, forse peggiorano, le tante concessioni alla nuova dirigenza da parte di tutti e tre i sindacati. Questi, anche la CGL, imposero ai vecchi iscritti sindacali di non avvicinare i nuovi iscritti. La motivazione era che, altrimenti, poi non venissero assunti a tempo indeterminato, non gli venisse riconfermato il contratto di formazione e lavoro, o quant'altro. Questa strategia fu subita dai vecchi, ovviamente accolta con giubilo dalla dirigenza. Per quale motivo i vecchi operai, insomma, anche quelli che avevano fatto le lotte precedentemente, hanno accettato questa cosa? Per tre motivi, principalmente. Molti dei nuovi assunti erano figli o parenti dei vecchi, era in atto quella che era lo scambio, io vado in pensione, una parte di liquidità, non me la prendo, prende il posto mio, mio figlio, no? C'era questa cosa, insomma. Molti del sud lo sanno, credo, Napoli, c'è sempre stata nelle fabbriche. Molti assunti, questo è il secondo punto, vennero presi dai quartieri più disagiati, ad esempio i Tamburi, che è ancora oggi il quartiere più a ridosso l'Ilva, quello che più subisce anche gli inquinanti. Ad esempio, nel 1995 era attivo un comitato molto forte di quartiere che si occupava di vertenze ambientali. Casualmente, appena assunti, e la maggior parte veniva da lì, questo comitato è scomparso. Persone che noi conoscevamo di questo comitato, ancora oggi dicono, ma non è vero, non c'era quel comitato, perché hanno due figli, il nipote, insomma, che lavorano all'Ilva. In realtà questa non fu un'invenzione di Riva. Anche l'Ital Seeder pubblica faceva questo. Venivano presi principalmente lavoratori dalle campagne, perché come direbbero i compagni nostri erano i più tosti da muovere, quelli meno politicizzati, quelli più legati alla cultura contadina. Però certo era differente all'epoca degli anni 70, per cui c'erano oltre che i sindacati, anche organizzazioni politiche all'interno dell'Ital Seeder che muovevano le cose. Adesso ci sono tre sindacati che valgono molto poco. L'ultimo motivo, ma forse anche il più importante, è che comunque la vecchia classe operaia ormai era demotivata. Sia psicologicamente usciva comunque danni di sconfitte, di arretramento dei diritti, sia all'interno della fabbrica, ma anche a livello nazionale. Non vedeva l'ora di andarsene anche per un motivo sanitario, insomma, lavorare in una fabbrica metalmeccanica dove non c'era nessun'idea di infortunistica ambientale. Cioè non è che si pensava al controllo oncologico, al controllo polmonare, insomma, è stressante. Cioè per le persone che lavorano in fabbrica hanno anche a vista un aspetto più anziano di chi ha fatto l'impiegato, ma è normale questo, insomma, non puoi lavorare a temperature così alte, 35, 40 anni, senza avere, 30 anni, 35 anni, senza avere ripercussioni fisiche. Quindi erano stanchi, non vedevano l'ora di andarsene. Tant'è che con riva aumentano i prepensionamenti a 35 anni di contributi con 50 di età. Poi c'è l'altro aspetto che è fondamentale, che è l'uscita per la causa amianto. Fino al momento in cui arrivarono in riva, insomma, 97-98, quando poi fu tutto sistemata la situazione, in Italia l'amianto sembrava che non avesse questa grande influenza, anche se si sapeva che fosse un materiale pericoloso per i polmoni. Quando questa cosa uscì fuori, anche lì tramite i telegiudiziari, eccetera, ci fu l'uscita per causa amianto, per cui venivano condonati degli anni, potevi uscire molto prima, e in realtà questo prodottò a un esodo di massa dei vecchi operai. Ma veramente fu un esodo. Questo arretramento e questa demotivazione non toccò solo la parte operaia, ma anche poi in realtà la parte impiegatizia, amministrativa. Io non so quanti di voi si ricordano la questione della palazzina Laff, che era il laminatoio a freddo, era una palazzina creata su da Iriva, con intenti punitivi all'interno dell'Ilva, quello che adesso ne potremmo chiamare il mobbing. Fino al momento in cui vi era la partecipazione pubblica, il rapporto, diciamo, operai impiegati era 10 a 1, 10 operai, un impiegato. Con Iriva, Iriva volevano farlo diventare 20 a 1, ma lui, essendo un padrone buono, comunque paterno, non voleva licenziare questi impiegati, pensò di declassarli da impiegati a operai. Ovviamente, questi non lo accettarono. Fu messa su questa palazzina dove venivano... chi non accettava questo veniva indirizzato alla Laff durante i turni di lavoro, quindi questi passavano turni di lavoro a non far nulla, senza pc, senza telefono, anche con poche sedie rispetto al numero, sorvegliati dai vigilantes, scansati dai colleghi che avevano accettato di essere dequalificati o che non erano stati toccati da questa cosa perché gli era stato ordinato di non farlo, di non avvicinarli. Con i sindacati che tutti sapevano, tant'è che si racconta e chi lo racconta c'era dentro, quindi insomma, lo raccontano gli stessi impiegati che i membri dell'esecutivo e del direttivo di tutti e tre i sindacati accompagnavano la mattina questi impiegati dai capi reparto che poi li smistavano. Questa situazione ovviamente sia psicologica perché il mobbing dà anche una problematica psicologica sia perché erano abbandonati totalmente dai sindacati ha fatto sì che molti di questi o accettarono di essere declassati a operai anche se poi non facevano gli operai, continuavano a fare gli impiegati ma insomma in situazioni veramente orrende tant'è che c'è stato un processo vinto da questi o aspettarono semplicemente il pensionamento. Da ciò si capisce per colpa soprattutto dei sindacati interni anche perché i nostri compagni ormai non c'erano più dentro che la nuova classe dirigente ha in mano la formazione di tutti i nuovi assunti soprattutto e l'ha utilizzata soprattutto in forma antisindacale. Se voi considerate che attualmente l'intero gruppo Riva a livello nazionale ha un'età media di dipendenti di 39 anni e Taranto è il siderurgico che l'abbassa notevolmente voi potete immaginare come questo è dovuto all'uscita di massa per l'amianto come sia stato facile sottomettere e zittire un così gruppo di giovani lavoratori che è entrato all'ILVA senza supporto senza i vecchi che ti davano una mano insomma senza sindacati che ti facevano capire ti davano una spinta per capire cosa succede. La situazione è statica anche dal punto di vista delle mobilitazioni esterne dell'indotto dell'appalto ILVA perché poi quando si parla di ILVA si parla anche di tutto un mondo che è attorno all'ILVA non è solo il siderurgico l'appalto l'indotto gli autotrasportatori i fornitori la situazione è statica anche da quel punto di vista piccole mobilitazioni che però coinvolgono solamente diretti interessati i lavoratori delle pulizie della marina non coinvolgono né gli altri lavoratori né ovviamente l'intera città anzi chi si fosse immaginato che con l'esplosione del caso ILVA vi ricordate il 2 agosto con i tre sindacati in piazza il tre ruote che arriva insomma e tutto quello che poi c'è stato scoppiasse in città una mobilitazione generale ha sbagliato io per prima io avevo ho fatto manifestazioni estemporaneo in piazza con 500-600 persone e mi ero fatta un'idea che poi si è rilevata totalmente sbagliata questo probabilmente per colpa anche nostra anche se noi siamo stati sempre essendo pochi quelli che sono riusciti a contare meno perché purtroppo il numero conta in certe situazioni il numero di teste parlanti perché io è vero che noi siamo un'organizzazione vorremmo essere un partito e quindi certe volte siamo additati in questo ma io ho un centro sociale in città che è peggio di un partito nel senso che fanno veramente il direttivo il giorno prima si decidono gli interventi da fare durante le riunioni e se le fanno tutte uno per uno cioè noi invece questo probabilmente non siamo capaci di farlo tutta la situazione è stata gestita male probabilmente anche da noi ambientalisti il comitato liberi e pensanti insomma sorti in quel periodo i sindacati tutti rinchiusi fra di loro tutti incapaci di comunicare fra di noi e soprattutto con la città ad esempio c'è stato il grande corteo del 2012 subito dopo il decreto salva ilva che fu approvato una grande una manifestazione fatta da riunioni piene di assio con parole forti e non solo parole perché sono volate anche insomma ben alto pugni eccetera eccetera si usciva da quelle riunioni senza aver concluso nulla con un corteo che fu grosso perché fu 15.000 persone chi parla di 20 che però non aveva una parola d'ordine unitaria chi andava per la chiusura chi andava per l'ammodernamento chi andava per un altro motivo chi molto più furbescamente si manteneva sul vago perché così fai buoni gli ambientalisti gli operai e non dici realmente qual è la tua idea tant'è vero che il corteo che fu grosso non ebbe uno spezzone di lavoratori e di lavoratrici erano singolarmente come c'eravamo noi ma non c'era uno spezzone era un corteo diceto medio alto in realtà di commercianti piccoli professionisti studenti ma mancava quello che noi chiamiamo il proletariato quello non c'era della città chi ha provato a organizzare riunioni per discutere seriamente della vertenza ci ha dovuto rinunciare anche per incolumità fisica in alcuni momenti poi adesso i comitati si sono spaccati un comitato ormai devi fare la tessera di partito per entrare altri non esistono più altri seguono soltanto le direttive europee quindi si occupano solo della parte giuridica per farvi capire il livello di Taranto adesso un gruppo di ambientalisti di cui tutto si sta occupando tranne che di lavoro pensano di cambiare il nome della città da Taranto a Taras che era il vecchio nome greco insomma no perché questo è un brand turistico che attira i turisti come se mettere la statua di Falanto che era il nostro fondatore insomma con il pisello in mano in piazza attiri la gente e cambi la situazione cioè si può pure fare ma insomma non è quello che la classe operaia quindi in tutto ciò io ho spiegato questo facendovi pure gli esempi non ha completamente è quella che non comprende quali siano i propri diritti e i propri interessi ad esempio di fronte all'indagine della magistratura si sono ritrovati talmente spiazzati che hanno fatto un corteo spinti dai capireparto ovviamente che erano spinti dalla dirigenza e anche dai sindacati che insomma a fare un corteo contro la magistratura ossia contro i loro interessi perché poi il problema ambientale è un problema che esiste non è che noi possiamo far finta di nulla ecco così come il primo agosto di quest'anno c'è stata una manifestazione organizzata da Confindustria con duemila fra lavoratori lavoratrici e imprenditori che parlavano delle problematiche dell'indotto ILVA ENI eccetera eccetera però da un punto di vista capitalistico a fronte di una contramanifestazione di neanche 50 persone che ognuno andava per i fatti suoi cioè che era pure là ognuno con la propria parola d'ordine ovviamente con i controlli attorno che ridevano perché poi gli scazzi non sono stati fra i due gruppi ma fra i gruppi ci diciamo fra quelli che dovevano contestare perché io voglio la chiusura la chiusura le solite cose un altro esempio di come l'ILVA abbia influenzato la città di Taranto è stato il referendum che abbiamo avuto il 14 aprile 2013 vado velocissima era un referendum consultivo sulla chiusura o meno dell'ILVA non si raggiunse il quorum l'affluenza fu appena del 19,51% i sì alla chiusura superarono gli 80% il dato più sconcertante fu l'80% sì scusate il dato più sconcertante fu quello che riguardò i quartieri più a ridosso l'ILVA sempre i due principali Paolo VI e i Tamburi dove addirittura votò neanche il 9% questo ci fa capire due cose la prima è che fu un referendum per addetti ai lavori hanno votato solo coloro che volevano la chiusura e in ciò noi avvertivamo lo dicemmo durante le riunioni l'azienda festeggerà e farà infatti così è stato il secondo è che questo referendum è stato vissuto dalla città come l'ennesima cosa calata dall'alto senza informare i cittadini è imposta e che addirittura spacca la città su una cosa fondamentale com'è la questione salute lavoro perché non è politicamente ma soprattutto per me anche umanamente possibile chiedere a una famiglia un padre una madre una donna un uomo di scegliere fra lavoro e salute cioè non è umanamente politicamente giusto noi questo lo dicemmo tant'è che facciamo un comitato per l'astenzione ovviamente i dati alla fine ci hanno dato ragione perché nessuno andò a votare perché io non voglio né possibilmente morire di malattie a 30 anni perché a Taranto c'è un'età media di morti c'è un gap che non era così dal 1867 se non mi sbaglio di dei morti che superano i vivi cioè le nascite è una cosa assurda abbiamo un inquinamento folle io non voglio né morire diciamo per quello ma neanche voglio mettere da parte totalmente la questione lavoro cioè com'è che si diceva una volta noi volevamo il pane e le rose noi vogliamo quello e quello cioè la lotta deve essere unificata se non fai una lotta che salute ambiente e lavoro insieme perdi questa è la cosa che purtroppo non hanno voluto capire perché sono tutti settoriali le lotte vi salto allora la situazione giudiziaria dicendovi soltanto che già la prima udienza è stata rinviata due volte perché aspettiamo la Cassazione dato che la la difesa ha chiesto di spostare il processo da Taranto a Potenza per incompatibilità ambientale come ormai si fa sempre c'è un numero di 53 sì 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 quindi già stiamo al secondo rinvio di un processo che avrà un iter lunghissimo perché ci sono tre società 49 persone fisiche fra cui probabilmente Nichi Vendola che sarà rinviato a giudizio per concussione e quindi questo attualmente abbiamo un commissario straordinario che è Piero Gnudi che era ex ministro col governo Monti che era ministro del turismo dello sport e degli affari regionali insomma che con lì con il siderurgico in realtà non ne capisce molto perché quando si parla insomma è palese questo ve lo salto la città perché a me poi preme soprattutto la parte della città vado velocissima scusate ma io ve l'avevo detto all'inizio che questo cioè che questo discorso è lungo allora c'è un interessamento anzi questo poi lo devo dire perché poi sarà fondamentale se dovesse succedere un interessamento del colosso indiano Lars Lormittal che sta presentando il piano industriale e sta terminando di fare le verifiche sugli impianti per l'acquisizione perché dico questo perché Lars Lormittal apre scenari incerti rispetto a quello che sarà il futuro dell'ILVA anche dal punto di vista ambientale perché è balzato agli onori della cronaca qualche mese fa per un problema grossissimo di ambiente in Bosnia dove aveva acquisito un'azienda siderurgica abbastanza grossa ha portato via tutto ha lasciato il disastro e insomma lì c'è una città che è stata lasciata totalmente distrutta con un inquinamento delle falde acquifere che è ancora più forte di prima quindi qua se questo dovesse avvenire questa è una cosa sulla quale poi dobbiamo fare attenzione insomma e vedere se riusciamo a mobilitare su questo la città in tutto ciò vive una delle sue fasi più oscure è una città che casca letteralmente a pezzi cioè interi quartieri come Taranto Vecchia casca a pezzi si sbriciolano in realtà le infrastrutture urbanistiche sono in avanzato stato di abbandono cioè le strade ormai sono sterrate la rete idrica non esiste tant'è che chi non ha la fortuna o i soldi di avere un serbatoio in casa non ha l'acqua mezzagiornata la differenziata non è che non ha attecchito ma proprio non c'è un piano per fare la differenziata e quindi abbiamo cumuli di spazzatura insomma che vi potete immaginare chiusa totalmente culturalmente in se stessa tranne che pochi eventi a Taranto non si fa nulla eppure abbiamo uno dei musei di età ellenica più belli insomma perché io frequento abbastanza mostre eccetera eccetera che non viene visitato neanche quando è gratis vi è un aumento delle ragazze giovanissime con uno o più figli che ovviamente non vanno a scuola completamente calate nel ruolo di madri casalinghe e sempre più come dire sostenitrici del ruolo di supremazia del maschio culturalmente per cui c'è un aumento e questi sono dati diciamo dei centri che si occupano della violenza sulle donne c'è un aumento di episodi di sopprusi fisici e psicologici un aumento del razzismo in questo periodo con Taranto che è uno dei crocivii dei migranti neanche ve lo dico perché insomma credo che sia palese tu muori di fame te la prendi con chi muore di fame come te la disoccupazione aumenta la povertà la Caritas ha mandato dati in cui ha un aumento esponenziale delle famiglie che frequentano le mense viene da una disoccupazione che fra Taranto e provincia è il 44 e 51% fra disoccupati e inoccupati devi aggiungere un 10% in più per le donne ci sono circa 14.000 in cassa integrazione quindi sono dati abbastanza pesanti vi è un dato allarmante un aumento dei suicidi ci sono stati 4 suicidi nel solo mese di agosto di cui 3 sotto i 37 anni più non vi dico i svariati tentativi sventati molti di loro secondo i dati sono ragazzi che non lavorano in cassa integrazione perché voglio dire in una sala con tanti psicologi laureati io non devo spiegare come la difficoltà di vedere il futuro la difficoltà economica la mancanza di sicurezza di prospettive possono anche provocare problemi emotivi e psicologici il problema è che noi non riusciamo a convogliare queste cose in una lotta giusta vi è un aumento di lavoro nero e lavoro minorile come il ragazzo del bar per cui molti ragazzini non vanno a scuola un aumento della micro criminalità e delle mafie questo è importante perché spesso ci dimentichiamo che esiste ancora la mafia quella vera che fa saltare i negozi le mafie hanno ancora un forte impatto soprattutto sui giovani ieri sera abbiamo fatto la riunione sui giovani perché la mafia ti procura l'illusione quando fai il palo il piccolo spacciatore ma non è quello il problema il problema è chi ti sta più in alto insomma se arresti il ragazzino di 15 anni hai fatto un danno solo a lui in realtà devi toccare chi sta in alto però questa cosa procura diciamo una sorta di rispettabilità verso gli altri che ti dà l'illusione una mera illusione un altro tipo di sfruttamento di contare qualcosa in una realtà in cui non conti nulla però in una realtà in cui tu verrai sfruttato ancora di più da colui che poi ti manda a spacciare a fare il piccolo furto eccetera perché ho raccontato queste che sembrano perché io credo che in una città Taranto ma ce ne sono tante altre in cui c'è un grosso problema economico ne risente tutta la società le donne la questione LGBT i giovani i anziani e tutto un insieme e dire che il capitalismo su questo ci va a nozze no? perché più ci ci imbarbariamo ci imbarbariamo più è facile sottometterci e dire che c'è chi e chi cito testualmente ha detto tempo fa in un'intervista del 2013 che c'è un capitalismo che il caso Acciaio può aiutare a ridefinirsi magari meglio facciamo una scommessa questa è stata Nichi Vendola insomma ho dovuto tralasciare tante questioni la questione sicurezza da quando è scoppiato questa cosa noi abbiamo avuto quattro decessi di cui l'ultimo i primi di settembre perché comunque non si fanno più grosse manutenzioni e l'ILVA è un siderurgico insomma ci deve essere un piano di sicurezza antinfortunistica tra l'altro con i RIVA c'è le novità c'è il bonus annuale di 100 euro a squadra se non fai infortuni per cui i piccoli infortuni non vengono neanche più denunciati perché altrimenti fai perdere il bonus a tutta la tua squadra la questione inquinamento prima parlavo e quindi la questione inquinamento i dati ancora sono allarmanti se realmente come alcune associazioni come Psilink dicono che c'è un calo diciamo c'è un aumento dell'inquinamento e l'ARPA dice che c'è un calo probabilmente il calo è dovuto solo al fatto che c'è una diminuzione della produzione perché metà stabilimento è bloccato c'è un'altra cosa che qualcuno di voi l'avrà letta sul sito quindi la dico velocemente adesso hanno approvato sempre la nostra cara regione Puglia con il governo il progetto Tempa Rossa che è praticamente un progetto che permetterà all'Eni di far arrivare il petrolio dalla Basilicata nel nostro bacino quindi aumentando il flusso di petroliere il flusso di carico scarico e smistamento in una realtà già inquinata dove veramente abbiamo dei livelli assurdi con ancora di più poi la possibilità di incidenti perché le petroliere come sapete sono anche soggetti a questo noi in tutto ciò abbiamo gli stessi problemi problematiche della città abbiamo compagni demotivati senza lavoro insomma noi viviamo su un paio di pensionati ex ILVA e sul nazionale che ci dà una mano e questo per noi è una grossa difficoltà anche riuscire per quello che ho detto a smuovere perché noi siamo la sinistra come SEL che purtroppo che ha rovinato la città perché poi è difficile riuscire a spiegare alla gente che tu sei un'altra cosa dovremmo capire come fare che fare e va veramente finito ovviamente per l'ILVA le proposte più sensate sono nazionalizzazione e sproprio ne abbiamo parlato tantissime volte anche Antonio Moscato le ha citate in alcuni suoi articoli rispetto agli Enin eccetera la decrescita la riduzione della produzione perché poi non è detto che dobbiamo continuare a produrre anche perché c'è un problema che non è solo nostro ci sono i monaci cambogiani che hanno fatto una manifestazione contro delle affiliate riva per l'estrazione del ferro ci sono le dighe in Amazzonia che vengono spostate per trovare nuovi giacimenti quindi diciamo è un problema nostro ma che coinvolge praticamente tutti il nostro acciaio va a fare la TAV questo è un altro problema ci sono le nuove tecnologie di cui abbiamo parlato tante volte in realtà ci sarebbero tante cose da fare e termino dicendo questo l'unica cosa io ho capito insomma in questo è che le lotte settoriali in realtà servono a poco cioè per riuscire a sconfiggere questo colosso che è l'ILVA che poi possiamo decidere chiuderlo non chiuderlo insomma non è quello ma non puoi pensare di chiuderlo e metterci su la fabbrica biomedica come sta non so in quale Bilbao non mi sbaglio cioè tu devi sconfiggere un sistema che è un sistema molto più complessivo altrimenti vai da un capitalismo all'altro e in realtà non hai risolto forse abbassi di un po' il disastro ambientale ma non è quello quindi in realtà noi dovremmo riuscire a fare anche vertenze ambientali ecosocialiste insomma che siano complessive io credo che Brescia che ha i stessi problemi ambientali dovremmo riuscire a fare battaglie perché il problema è lo stesso è il problema principale che sta a monte è il capitalismo cioè senza che combattiamo quello né noi né Brescia né chiunque altro riuscirà a uscire da questa impasse basta grazie a tutti grazie a tutti